Io mi aspetto un cambiamento radicale e sistemico di tutta l'industria della salute, l'industria allargata dell'healthcare, in un tempo relativamente breve, 5-10 anni. In particolare due tendenze molto forti, quello di definire la giusta terapia per ognuno di noi, quindi personalized health care, e la seconda di dare la terapia il prima possibile, prima dell'emergenza della parte più sintomatica e questo vuol dire primary prevention, secondary prevention e un'industria allargata che impara a gestire la cronicità e a lasciare il paziente possibilmente a casa, quindi con l'emergenza della telemedicina. In ambito farmaceutico, che è l'ambito che rappresento, mi aspetto l'emergenza e lo sviluppo di gene therapy cell therapy e RNA based therapies, queste sono le terapie su cui l'industria in maniera allargata sta trovando sempre più soluzioni che non siano di nicchia, ma siano in grado di trattare un numero più elevato di pazienti.